Il Veneto è la più importante regione turistica d'Italia ed è quindi naturale che l'attenzione del governo sul tema del turismo in questa fase delicatissima per l'emergenza coronavirus e la ripresa passi proprio dal Veneto. Il governatore Luca Zai ha ricevuto la visita del ministro del turismo Massimo Garavaglia per capire quali possono essere le strategie da condividere per un'estate in piena ripartenza. Sul piatto le istanze del comparto. La prima istanza è quella di fare in modo che ci sia la possibilità di assumere personale, cioè tutte le imprese ma non solo quelle turistiche mi stanno letteralmente messaggiando rispetto al fatto che c'è la carenza di occupati quindi la necessità di assumere professionalità. Dall'altro sicuramente il grande tema del Green Pass ovvero la possibilità di garantire mobilità generale e questo è un altro dei fattori e dopodiché tutti i temi dell'organizzazione, il tema del super bonus e tutte le attività che si possono portare avanti col turismo. Una chiave di lettura importantissima è quella legata all'indotto creato dal turismo estero. Stiamo crescendo sicuramente a due cifre rispetto all'anno scorso. La vera partita ce la giochiamo sugli stranieri, noi abbiamo 72 milioni di presenze turistiche all'anno. Il 67% sono stranieri, se riusciamo a sbloccare il tema dell'incertezza che molti stranieri hanno per venire qui, che hanno paura della quarantena o quant'altro decisamente si va avanti. Poi noi siamo ormai con alte vaccinazioni quindi non temiamo più il tema. Appunti che il Ministro porterà a Roma per stilare un piano in grado di rispondere alle esigenze dell'area più turistica d'Italia. Ci sono prospettive positive, oggi il governatore della Banca d'Italia Visco ha detto che si supererà il 4% di ripresa quest'anno per cui vuol dire una seconda parte dell'anno particolarmente buona anche dal punto di vista dei flussi turistici.